Stefano Dell'Amico, 48 anni, piccolo imprenditore, vive ad Avenza con la moglie Anna e Leo, un terremoto di gatto simpaticissimo. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché vuole impegnarsi insieme a un gruppo fantastico a realizzare quel cambiamento che tanto desideriamo. Un cambiamento che appare rivoluzionario ma in realtà è solo l'insieme di idee, buonsenso e voglia di ribaltare una realtà artificiale e disastrosa. Sogna con De Pasquale il Sindaco una città migliore per tutti perché merita di esserlo, una Carrara nuova che ci aspetta e sarà bellissimo farne parte.